Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati su LeonTube in questo video andremo a vedere delle novità che ci saranno dal 17 luglio tra diciamo tre mesi uscirà infatti Asphalt Legends Unite che cosa prevedrà questo Asphalt Legends Unite? sarà l'ultimo capitolo dichiarato della serie Asphalt quindi non ci saranno altri Asphalt perché molto probabilmente la Gameloft si adeguerà un po' a tutti i titoli diciamo multiplayer online il quale manterrà il medesimo titolo e poi cambierà le stagioni di tanto in tanto e continuerà comunque a introdurre novità quindi le novità non finiranno ma avremo questo gioco unito perché Unite? Perché finalmente hanno fatto il cross platform e qui dobbiamo andare a vedere alcune particolarità innanzitutto apriamo una piccola parentesi perché sappiamo che doveva uscire Asphalt 10 e che non è uscito noi io personalmente avevo ipotizzato che stessero lavorando su questo cross platform perché come gioco online diciamo erano un po' indietro rispetto ai tempi che corrono e a tutti gli altri giochi come stanno andando comunque cross platform che cosa significa? significa la possibilità di poter giocare con tutti gli utenti online quindi anche i nostri amici che magari hanno Switch, Xbox, Android e altre piattaforme infatti questo Asphalt Legends Unite sarà disponibile per tutte le piattaforme ci sarà solo una piccola particolarità su questo cross platform non ci sarà il cross save ossia il nostro account non potrà essere trasportato su altre piattaforme o perlomeno non su tutte ad esempio se abbiamo l'account nella Nintendo Switch come nel nostro caso potremo giocare con tutti i giocatori del mondo quindi ci sarà un unico Asphalt non come adesso che c'è la versione Switch, la versione Android e poi non so se gli Xbox ad esempio possono giocare anche con gli altri oppure ognuno nella sua piattaforma mi sembra che sia così per il momento allora il gioco verrà messo anche su PlayStation 4 e 5 quindi con ogni console avremo il nostro account e potremo giocare con tutti i giocatori delle altre piattaforme quindi anche amici che hanno una console diversa dalla nostra l'unico problema è che se ad esempio abbiamo un account su Switch o un account su PlayStation 5 o 4 e un giorno andiamo a cambiare console oppure abbiamo un altro dispositivo e vogliamo passare il nostro account sull'altro dispositivo non riusciremo a portare i nostri salvataggi e quindi dovremo fare tra virgolette un nuovo account non potremo trasportare il nostro account il cross save appunto chiamato così è possibile per alcune console, alcuni dispositivi ma non per tutti però questo è un dettaglio minore inoltre ci saranno delle lobby private che vuol dire una lobby privata? quindi vuol dire che potremo creare una so per chi conosce Fortnite creare un piccolo canale con dei nostri amici ovviamente che hanno anche altre piattaforme non solo Switch e si potranno fare anche delle partite online ora non è stato parlato ancora però a questo punto a me personalmente viene il dubbio se possano rimanere o vengano tolti i club perché facendo queste cose delle lobby ognuno si fa il suo gruppetto così quando capita e magari i club potrebbero essere tolti però non è detto quella è una scelta aziendale oppure magari potremmo fare queste lobby con altri amici senza dover uscire dal nostro club nel quale siamo il che sarebbe anche abbastanza comodo ovviamente ci saranno delle novità a livello grafico cambierà il carattere, il fonte quindi le scritture, queste cose qua e poi ci sarà anche una versione fisica del gioco e la versione fisica sarà per PlayStation 5, 4 e per Nintendo Switch e la versione fisica che cosa intendiamo? che non c'è la versione digital ma apriamo proprio la cartuccia o il disc e per chi avrà questa versione fisica ci saranno delle ricompense in più che andiamo a vedere qui nel dettaglio ora ve le metto ci saranno 5000 token quindi diciamo un bel avere ci saranno dei crediti ora arrivo a metterla eccolo qua ok allora per chi avrà la copia fisica quindi comprerà il gioco fisico otterrà un codice all'interno della scatola ci saranno 5000 aggettoni quindi token blu 5 milioni di crediti e poi progetti per sbloccare quindi la prima stella della Lycan Hypersport Corvette ZR1 McLaren 765LT Ferrari 926 se non la vede la Porsche Taycan la Lamborghini Contach 2022 con la chiave e un'esclusiva decalcomania solo per la PS5 per la Contach 2022 per chi avrà la Switch ci saranno le stesse cose tranne questa decalcomania della Switch un'altra cosa molto importante sarà una nuova modalità di gioco a mio modo davvero accattivante perché si potrà fare una corsa dovrebbe essere chiamata Fursuit quindi è tipo ricercato ma di questo non ne siamo sicuri praticamente la gara sarà di 8 giocatori e sarà una sorta di Syndicate però attivo ossia questi 8 giocatori quindi Multiplayer ovviamente non so se poi ci sarà un percorso però questi 8 giocatori 5 avranno le auto del sindacato e 3 avranno le auto della polizia quindi sarà una sorta di caccia o di guardia e ladri chiamiamola così nel quale i poliziotti che fanno squadra insieme dovranno probabilmente espellere e bloccare le altre auto mentre le altre auto dovranno scappare dai poliziotti e arrivare al traguardo senza farsi beccare poi di più più dettagli non si conoscono quindi non li conosciamo e tra l'altro oggi nei canali ufficiali della Gameloft dovrebbe esserci la presentazione di questa che sarà questa novità che vi stiamo un po' anticipando e che comunque trovate già anticipata ovviamente anche online poi ci sarà ovviamente una nuova pista per chi gioca da Switch adesso da qui a luglio andremo quindi a avere anche altre piste che ci sono già su Android altre auto perché nel nuovo Unite avremo un garage di 250 auto quindi partiremo da quello poi dopo come sempre ci saranno le auto che si andranno ad aggiornare poi dovremmo avere l'overclocking a breve oltre a tante altre auto l'overclocking è una funzione che potenzia delle auto si possono potenziare con questo overclocking delle auto e quindi andare a fare le gare con l'auto taroccata chiamiamola così e quant'altro quindi ci sarà cambierà ovviamente tanto nello stile grafico sia anche il garage in menu ovviamente queste cose qui cambieranno un po' tutte come è normale che sia allora potrebbe anche essere che invece della Countach come auto per chi ha la versione fisica ci sia sempre la Countach LP800-4 fino alla terza stella questi sono comunque dettagli più o meno comunque il concetto è quello poi quello che ci sarà sarà meglio ovviamente tante auto qualcuno le avrà già però sono più per chi inizia a giocare ci saranno queste auto qua nuove da poter avanzare quindi dicevamo ci sarà questa nuova pista Singapore di notte in notturna poi ovviamente ci saranno nuove tracce musicali ci sarà un po' di cambiamenti in generale come dicevamo anche prima è normale che sia però ovviamente ancora per certo non si sa nulla dal mio punto di vista la cosa molto le cose migliori finalmente che io dico che le chiedevo ma per chi mi segue lo sa il cross platform è una cosa importantissima ormai da poter giocare tutti con tutti quanti gli altri giocatori peccato per non poter trasportare l'account carina anche questa nuova modalità di gioco diciamo del syndicate chiamiamola così dove potremmo essere cacciatori o fuggitivi anche se lì diciamo non conosciamo bene l'aspetto perché mentre ora andiamo a scegliere l'auto lì verrà assegnata un'auto presumo casualmente perché se io vado a fare non so se sarà livellato in base alle classi chissà questo lo vedremo comunque rimanete aggiornati sul nostro canale perché appena sapremo qualcosa di più vi aggiorneremo questo è tutto ci vediamo mi raccomando bella e cozzo iscrivetevi al nostro canale e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti